L'ultima domenica di maggio, complice del vero primo caldo della stagione, ha visto una buona presenza di turisti sulle località abruzzesi. Le spiagge non solo hanno attirato gente che si è goduto un antipasto importante della prossima stagione estiva, in attesa magari di potersi godere qualche altro giorno di relax in occasione dell'imminente Ponte del 2 giugno. Il weekend più lungo, grazie alla Festa della Repubblica, sarà così un primo test per il futuro prossimo del turismo abruzzese. Presidente Giovannelli, possiamo dire che questo è il ponte che apre la stagione estiva? Beh, finalmente sì, diciamo che poi abbiamo avuto questa coincidenza positiva anche con il bel tempo, a differenza dei ponti pregressi, dove magari hanno potuto lavorare tutte le strutture che si erano organizzate con eventi sportivi, culturali e quant'altro. Inizia la stagione estiva, le prenotazioni, la dinamicità delle richieste, della domanda, insomma, lascia ben sperare. Dunque aspettative importanti e sensazioni positive quelle degli addetti del settore turistico, corroborate dalle prenotazioni degli ultimi giorni per questo ponte. Le strutture stagionali infatti stanno riaprendo e i giorni del prossimo fine settimana saranno utili per completare le prove generali. L'Abruzzo è una regione che piace? Assolutamente sì, noi ribadiamo sempre questo concetto. Bisogna strutturare un programma di comunicazione strategico per coinvolgere tutti i fenomeni turistici dell'annualità turistica regionale. Non è più possibile parlare dell'estate o dell'inverno, abbiamo la capacità di attrarre una domanda articolata che coinvolge tutte le stagioni e tanti club di prodotto che la nostra regione sa offrire. Il drammatico evento registrato Emilia Romagna sta portando dei turisti a disdire per venire in Abruzzo? Intanto ci siamo apprestati a renderci disponibili per tutte le esigenze che i nostri colleghi potrebbero aver bisogno. Ci auguriamo che questa cosa non avvenga nel rispetto delle loro attività e del loro impegno. Ad oggi questo fenomeno infatti non è avvenuto.